Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Ti racconto un libro. Se questa è la prima volta che vedete la mia faccia vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un like se il tipo di contenuti che propongo vi piacciono. E ovviamente il tipo di contenuti è libroso, il tipo di contenuto è libroso, non potrebbe essere nient'altro. Infatti oggi andiamo a parlare di un romanzo che non è un semplice romanzo, ma è l'ultimo di una serie, di un percorso attraverso i cinque sensi che l'autrice ci ha proposto. Sto parlando nello specifico della Pasticciera di Mezzanotte di Daisy Cardi, edito da Fazzi Editore. Come dicevo appunto si tratta di un romanzo, l'ultimo della serie sui cinque sensi che l'autrice ha ideato, e sono cinque storie autoconclusive nelle quali però ci sono alcuni personaggi che tornano. Non tutti, ma alcuni sì. Però andiamo con ordine e cominciamo a raccontare la storia di questo romanzo dal sapore. unico. La storia si articola su due piani temporali che poi andranno a poco a poco a convergere, e ci raccontano appunto la storia di Yolanda Spalatov e di Edmondo Ferro. Edmondo Ferro è l'avvocato che abbiamo già conosciuto in altri romanzi sempre di questo stesso ciclo sui cinque sensi, ed è un uomo sulla quarantina, uno scapolo e soprattutto un lettore voracissimo. Ora, come si mettono insieme le storie di questi due personaggi, di questa Yolanda e di Edmondo Ferro? La storia di Edmondo è ambientata nel 1917, siamo a Torino, nel piano quindi della Grande Guerra, in una città provata da quelle che sono tutte le privazioni della guerra, e qui infatti entra prepotentemente il senso del gusto, perché proprio tutte le privazioni di carattere alimentare sono quelle che vanno maggiormente a incidere sulla popolazione e delle quali ci racconta Edmondo in primis, quindi quando ricorda il gusto del caffè, il gusto dei cibi autentici, quelli veri, che sono poi quelli che mancano, e soprattutto ci ricorda, ci racconta anche quelle che sono le file per il pane. E proprio durante una di queste file si sente parlare di Yolanda e Isabella. Yolanda è Yolanda Spalatov, la stessa Yolanda dell'altro filone della storia, è stata la sua mancata promessa sposa. Infatti sua madre, la madre di Edmondo, e Isabella, che sarebbe la zia di Yolanda, si erano messe d'accordo per far incontrare e poi favorire le nozze dei due, ma insomma tutto è finito in un nulla di fatto. E Edmondo poi tornando a casa scopre, in quanto si sposta nell'appartamento della madre, perché nel suo non riesce a starci e non ci può neanche stare, perché non è sicuro dal momento che ci sono appunto queste rivolte, che sono anche abbastanza violente, appunto si trasferisce nell'appartamento della madre e lì scopre proprio il carteggio tra la madre e Isabella, quindi tra la madre appunto e la zia di Yolanda. E scopre anche tutta quella che è la storia di Yolanda, perché lui, di lei, di questa ragazza, ha un ricordo diciamo in chiaro scuro, perché la ricorda come una bella ragazza, dai bei modi, però che non l'ha convinto del tutto, anche e soprattutto vista la sua condizione e poi era piuttosto la sua condizione sociale, perché sì, Yolanda è anche lei di nobili natali, appartenente alla famiglia del compianto Barone Duran, però era comunque in difficoltà economica, la sua famiglia affrontava delle gravi difficoltà economiche. e di lei e di sua zia ricorda in particolar modo il carattere, che dire spigoloso e dir poco, e quindi riscopre appunto la storia di questa ragazza e scopre e capisce anche il perché e come si è formato il carattere di questa Yolanda. Infatti conosciamo la storia appunto di questa ragazza, che in realtà è stata praticamente plagiata, manipolata e nel peggior modo possibile dalla zia, che era una vera e propria arpia. Non ci sono altre parole per descrivere quella donna, era un'arpia. In poche parole, Isabella aveva un fratello verso il quale nutriva un sentimento che potremmo dire sfociava nell'amore vero e proprio, il quale però ha avuto una figlia, una figlia della quale si è presa cura, Irma della quale si è presa cura Isabella, strappandola di fatto alla madre. A Irma è stata detta una bugia, in quanto è stato detto che sua madre era una nobile austriaca che era morta dandola alla luce, e poi Irma, che Isabella tiene sempre sotto la sua campana, cioè è rinchiusa praticamente in una sorta di gabbia, cresce con questa donna, anche lei è manipolata da questa donna, la quale nutre un odio profondo per la servitù, infatti cambia servitù come se veramente si cambiasse, non saprei neanche come si battono le ciglia, con la stessa velocità, come si battono le palpebre, e in poche parole, poi Irma contrae matrimonio con un uomo che non piace verivamente a Isabella, un uomo con il quale darà la luce e Yolanda, che Isabella continuerà a prendere sotto la sua ala e crescerà secondo le sue regole fatte di noi aristocratici siamo i migliori del mondo, tutto il resto è plebe, sono persone inferiori, quasi non sono persone, per dirla in maniera molto semplice, ma che rende in grado di rendere l'idea. E i genitori di Yolanda si dimostrano essere totalmente inadeguati, soprattutto il padre, un uomo dedito ai vizi, dell'alcol, del gioco, insomma, un padre, un genitore totalmente incapace, che prenderà la moglie, tenterà la fortuna nelle Americhe, in Colombia, se ricordo bene, nelle piantagioni di caffè. E lasceranno di fatto, abbandoneranno di fatto quella che è la loro figlia Yolanda, alle cure della zia, anche se in realtà è anche la zia che ha voluto che Yolanda rimanesse fortemente con lei, perché questa donna è una sorta di pitone, è un po' costrictor, mi verrebbe da dire, quindi ha preso questa bambina sotto la sua ala e l'ha praticamente plagiata, l'ha fatta diventare una sorta di specchio di se stessa, solo nella versione un po' più giovane, perché ovviamente Yolanda era una ragazza. Però il rapporto del cibo con Yolanda è un elemento importante in questa storia, infatti Yolanda inizialmente aveva grandissime difficoltà a mangiare, probabilmente perché risentiva molto della tensione che c'era tra i suoi genitori che non si amavano particolarmente e poi Isabella detestava il marito della nipote di Irma e quindi Yolanda risentiva molto di queste tensioni e non riusciva praticamente a mangiare, infatti la storia si apre con queste istitutrici che si susseguono una dietro l'altra e che la puniscono, la obbligano a farla mangiare ma lei non riesce proprio. riuscirà in un momento specifico quando una sorta di fantasma, apparizione o persona reale apparirà nella sua vita sotto le vesti della pasticciera di mezzanotte. Infatti nella villa nella quale Yolanda vive e vive anche la madre e Isabella a un certo punto durante la notte Yolanda riceve la visita di questa donna che inizialmente le lascerà dei biscotti e poi la porterà con sé in cucina a cucinare appunto a preparare prelibatezze. poi Yolanda viene scoperta viene scoperta dal padre che non la prende affatto bene e neanche la zia Isabella la prende bene e infatti le vietano in tutti i modi di avere accesso alla cucina poi lei andrà in collegio farà la sua vita i genitori partiranno per la Colombia e così via fino ad arrivare al matrimonio con Damiano Ferraris che è un uomo di umili origini di origini borghesi che tuttavia si è fatto da sé e infatti è diventato un imprenditore nell'industria tessile ed è anche molto ricco. Isabella inizialmente non vuole che Yolanda e Damiano si sposino ma poi la consente in quanto le possibilità di sposare un uomo del suo rango o di rango superiore svaniscono per Yolanda non riesce in nessun modo e le condizioni economiche della famiglia di Isabella e Yolanda sono a dir poco terribili difficili è veramente dir poco cioè la casa in cui vivono cade letteralmente a pezzi quindi a consente dice alla figlia e dice alla nipote che si deve sacrificare e quindi Yolanda si sposa con quest'uomo ma il matrimonio alterna fasi di diciamo fasi positive e fasi negative insomma momenti di di luce e grandi momenti di buio infatti quando poi Edmondo incontra Damiano Ferraris lui lo contatta proprio perché dice io voglio divorziare da Isabella voglio separarmi da lei da Yolanda scusate voglio separarmi da lei non ne posso più e Edmondo dice aspetta un attimo cerchiamo di capire prende tempo e poi appunto legge tutto il carteggio tra sua madre e la zia di Yolanda Isabella e scopre tutta la verità scopre tutte le meschinità di questa donna di Isabella che non ha fatto altro che muovere i fili della vita di Yolanda come una burattinaia di fatto è stato questo ha fatto e disfatto e soprattutto ha profondamente influito sulla crescita e sulla formazione di questa ragazza tanto che anche Yolanda nutre un profondo disprezzo per la servitù è molto capricciosa è molto presuntuosa è fea di sé insomma ha preso tutto il peggio della zia per capirsi e tuttavia Edmondo scopre appunto questa verità e incontra di nuovo Yolanda incontra di nuovo anche suo marito con il quale cerca insomma al quale cerca di far capire che è il caso di riappacificarsi con lei incontra Yolanda e la coinvolge in un progetto vi verrebbe da dire in un progetto ma in una nella sua nel suo impiego momentaneo presso una mensa ora voi mi chiederete ma la mensa come spunta da dove è venuta fuori semplice in realtà non vi racconterò proprio tutti i dettagli ma Edmondo attraverso la portinaia inizierà a prestare servizio presso la mensa che serve da mangiare alle operaie in sciopero quindi aiuta a preparare il pasto e coinvolgerà in questo anche Yolanda Yolanda inizialmente è molto reticente ci sono una serie di scontri tra i due tra Yolanda Edmondo ma alla fine appunto accetta e anzi attraverso proprio il servizio in quella mensa qualcosa cambierà dentro di lei e soprattutto riuscirà a chiudere i conti con il suo passato un passato piuttosto difficile e si si scopriranno anche tante piccole grandi verità ora io chiudo qui con la storia perché poi ovviamente inizierà il momento dello spoiler vervelo è proprio questa è la trama in soldoni ma adesso andiamo nel dettaglio cominciamo a parlare dei personaggi dunque i protagonisti sono Edmondo e Yolanda ma c'è anche Isabella non possiamo dimenticare anche quella donna quindi Edmondo Ferro abbiamo detto è un avvocato sulla quarantina lettore che poi è in realtà la persona che ci racconta veramente la storia perché lui scopre il carteggio della mamma con Isabella e poi è quello che affronterà e farà in modo che questi due coniugi Yolanda e Damiano che sono in rotta di collisione trovino in un certo qual modo una quadra insomma almeno provino a parlarsi e poi ovviamente ci sarà il finale che ancora non vi svelo è un personaggio molto ben caratterizzato devo dire molto simpatico io ho apprezzato molto il suo carattere a volte un po' goffo molto attento alla forma un grande amante dei libri e quindi già per questo mi è simpatico ovviamente e quindi ho apprezzato molto questo questo personaggio e la sua voce sempre diciamo che ha sempre la parola giusta forse dovuto al fatto anche che è un grande lettore quindi probabilmente il diciamo il suo acume arriva anche da quello poi passiamo a Yolanda che è appunto l'altra protagonista del romanzo della pasticciera di mezzanotte e Yolanda è una donna un po' più complessa ha un'infanzia segnata comunque dalle difficoltà familiari ha un'infanzia segnata anche dal e non solo l'infanzia segnata da quella che è sua zia Isabella alla quale lei è visceralmente legata e tuttavia dalla quale a un certo punto sentì di doversi distaccare lei avverte il peso delle sue macchinazioni avverte il peso delle sue manipolazioni delle manipolazioni della zia su di lei ma tuttavia non riesce quasi a sganciarsene è come se ci fosse un rapporto un rapporto malato di fatto perché c'è questo questa sorta di sudditanza psicologica verso la zia probabilmente comunque frutto anche del tempo nel quale è ambientata la storia che appunto è la fine dell'Ottocento e la prima parte del Novecento siamo come dicevo nel 1917 quindi gli anni della guerra ma tutto si svolge il grosso della storia si svolge prima e quindi Yolanda è una donna un po' più controversa soprattutto è una donna in lotta con il cibo e il cibo è probabilmente una metafora di quel nutrimento e anche di quell'amore che le è mancato infatti nel momento in cui entra nella sua vita la figura della pasticcera di mezzanotte e qui ovviamente mi dispiace ma a parte uno spoiler io non so come altro parlare altrimenti di questa storia nel momento in cui entra la storia della pasticcera di mezzanotte le cose cambiano cambiano perché la pasticcera di mezzanotte inizialmente si pensa sia la nonna di Isabella ossia la mamma di Irma perché perché in realtà il fratello di Isabella il compianto barone duran ha avuto una storia con una cuoca alla quale poi è stato strappato questa bambina che era Irma nel momento in cui ha saputo la verità ha scoperto la verità sulla appunto su sua madre che non era una nobile austriaca morta dandola la luce ma era una cuoca e questa donna tra l'altro era viva entra in conflitto con Isabella molto molto in un conflitto molto aspro e porta e porta a casa la madre che è molto anziana e si pensa appunto che sia proprio questa madre questa cuoca ragione tra l'altro per la quale Isabella odiava le detestava le detestava le cuoche in particolar modo oltre a detestare tutta la servitudine generale dicevo appunto Irma porta questa donna porta sua madre a casa la nonna di Yolanda la bambina però non sa che è quella sua nonna e però riceve delle visite dal momento in cui questa donna è arrivata a casa riceve delle visite da parte di questo fantasma che appunto la introduce a quello che è il mondo della cucina e proprio grazie a lei grazie a questa pasticciera di mezzanotte Yolanda fa pace con il cibo scopre il piacere del cibo scopre il profumo il sapore di un biscotto impara a cucinare dei dolci tra l'altro molto buoni e tuttavia questa scoperta questo suo aprirsi finalmente al cibo e anche lei stabilisce con questa donna è un rapporto mutuo di fatto fatto di sguardi di gesti ma un rapporto nel quale Yolanda percepisce un amore che non percepisce in casa e quindi probabilmente anche per quello che riesce ad aprirsi e questa donna o questo fantasma apre in un certo senso la porta del cuore di Yolanda di sua nipote probabilmente e tuttavia questo a questa grande apertura corrisponde un momento di profonda difficoltà infatti quando poi la scoprono scoprono Yolanda appunto in cucina e capiscono che era lei la pasticcera di mezzanotte diciamo tutto tutto cambia tutto cambia in peggio perché lei viene proibito di cucinare memoria del fatto che sua nonna fosse una cuoca e quindi Isabella non voleva in alcun modo che spuntassero fuori i talenti della sua come dire dei suoi avi non nobili e quindi Yolanda ricomincia ad avere problemi con il cibo un po' questo è un leitmotif nella vita di Yolanda ma tutto cambia nel momento in cui molti anni dopo appunto grazie a Edmondo Ferro Edmondo entra in quella mensa e inizia a preparare le cose per quelle donne a preparare il cibo per quelle donne lei lo preparava in casa infatti Edmondo che capisce perché è in casa con lei in una notte specifica ora non mi sto a dire che anche non mi sto a dire troppo capisce che è lei la pasticciana di mezzanotte in realtà perché probabilmente soffre di sonnambulismo non si capisce non è ben spiegato ma trova praticamente Yolanda in mezzo a pentole padelle zucchero farina e e quindi capisce che è lei che è la donna che preparava e prepara i dolci le torte i biscotti insomma tutto quello che fa la pasticciera di mezzanotte e quindi proprio lei grazie proprio la Yolanda grazie alla partecipazione a questa messa grazie all'incontro con queste donne e al potersi prendere cura di queste donne in maniera totalmente spontanea e incondizionata capisce molto di sé capisce molto del capisce il dolore che le è stato e il male che le è stato provocato da sua zia proprio attraverso tutte quelle manipolazioni e tutte quelle vessazioni continue le umiliazioni che ha subito e quindi riesce in un certo senso a fare pace col suo passato a fare pace con quelle che sono le sue vere origini e a fare pace con se stessa cioè si plaga quel conflitto interno che lei viveva tra poi l'aver scoperto di essere comunque figlia di nipote di una cuoca e non non avere queste origini super blasonate e proprio l'alterigia che le ha inculcato e il stillato Isabella riesce a fare pace a trovare un punto d'incontro tra queste due parti della sua natura e soprattutto riesce a cambiare proprio grazie all'incontro con queste donne e all'imparare ad usare il cibo come strumento di comunicazione e come strumento d'amore come in realtà le aveva insegnato la pasticciera di mezzanotte che forse è sua nonna forse no forse è stata sempre sonnambula non si sa però insomma questo questo è il personaggio di Yolanda a Yolanda poi si aggiunge ovviamente Isabella Isabella l'abbiamo già abbondantemente descritta è una donna arcigna è una donna che ha era innamorata del fratello profondamente innamorata del fratello rifiuta di sposarsi rifiuta di tutti i pretendenti perché lei in realtà voleva voleva sposarsi quel fratello con qualcuno che fosse la copia esatta di lui non l'ha mai trovato e in un certo senso ha cannibalizzato la vita del fratello e la figlia di suo fratello e poi anche la nipote quindi diciamo che Isabella è il male è l'antagonista di questa storia perché è il personaggio più maligno è proprio malvagia non si salva niente di questa donna e quindi purtroppo non posso spendere parole gentili poi c'è ovviamente la figura della pasticciera di mezzanotte che come ti spiegavo prima non si sa se è frutto del sonnambulismo di Yolanda o se invece sia stata almeno nella prima parte della sua vita la nonna di Yolanda quindi quella cuoca con la quale il barone Duran aveva generato Irma e poi è quindi la nonna di Yolanda lei è un personaggio non personaggio che aleggia nella storia e ha comunque un'ora gentile e ci fa ci fa pensare a come il cibo possa appunto essere un veicolo un modo per comunicare e quanto sia importante e come quante cose si possano dire anche attraverso semplicemente la preparazione di un dolce o di un biscotto quindi è un personaggio assolutamente positivo per quanto riguarda le ambientazioni come dicevo siamo in Piemonte siamo a Torino nel particolare appunto negli anni della guerra quindi anche qui il senso del gusto viene molto esaltato e viene esaltato quasi per paradosso proprio attraverso le privazioni del periodo storico in cui viene ambientata la storia perché appunto siamo nel piano della guerra siamo nel piano della rivolta del pane e anche questo quindi ce la dice lunga su quello che è l'importanza di questo senso del senso del gusto e inoltre come dicevo all'inizio Edmondo ci racconta il mondo come era prima in un certo senso quindi quanto sia pesante ora che tutto manca riuscire ad andare avanti e infatti quando racconta del caffè racconta del profumo del pane che il pane poi durante la guerra si sa era fatto con tutto tutti i tipi di farine tutto quello che si poteva racimolare veniva messo negli impasti del pane nelle pagnotte e quindi il gusto entra in maniera molto importante all'interno della storia proprio per ricordarci quello che quello che può rappresentare a livello diciamo simbolico quindi un modo per comunicare una lingua che unisce è una lingua che unisce anche quando perché non ha bisogno di parole tra Iolanda e la pasticcera di mezzanotte non c'erano parole c'erano sguardi c'erano gesti di intesa e c'era amore era un amore che passava attraverso la preparazione del cibo quindi il gusto è veramente un altro personaggio fa parte dell'ambientazione dei personaggi è è il romanzo di fatto ora per quanto riguarda invece il linguaggio posso dire che è un linguaggio molto molto semplice ma anche ricercato allo stesso tempo ma l'aggettivo che secondo me meglio descrive la prosa di Desi Cardi è delicato è un linguaggio delicato è veramente una carezza e soprattutto è un usa un linguaggio l'autrice capace di catturarti e nonostante magari uno dice ok sono stanco non voglio più leggere ora basta arrivo alla fine del capitolo e mi fermo no in realtà no vai avanti perché ti ammalia ti rapisce e ti coccola allo stesso tempo quindi è davvero un piacere leggere questo questo romanzo e quindi chiaramente io vi consiglio di leggere la pasticciera di mezzanotte e anzi se potete vi consiglio anche di recuperare i quattro volumi precedenti che fanno parte proprio del ciclo sui cinque sensi sempre ovviamente scritti da Desi Cardi sempre per farsi editore di modo che possiate avere un quadro più completo di quello che è questo viaggio che l'autrice ci ha proposto ora ditemi la vostra se l'avete letto o fatemi sapere che cosa ne pensate altra cosa importante se volete potete sempre iscrivervi al unirvi al gruppo di lettura Libro Misù che si svolge online vi lascerò poi tutto tutte le informazioni giù nell'info box e io ovviamente vi ringrazio per avermi ascoltato per essere stati in mia compagnia fino ad ora e vi auguro una bellissima giornata ci vediamo alla prossima lettura ciao ciao